Credo che padre Graziano che mi è materialmente impedito di andare a trovare, perché la volta che sono andato a trovare sono finito in televisione nazionale dopo sei ore. No, io le opere di misericordia con i canali televisivi ne faccio. Naturalmente il contatto è attraverso il cappellano, molto semplicemente, non è che io mi informo continuamente e mi preoccupo di questo, di questo che sta in galera da otto mesi senza un pezzo di prova e anche bisogna dire che i giudici hanno decretato gli arresti domiciliari, ma la Repubblica dice che non trova il braccialetto, che so io, non so che non trova. Mi racconta una cosa singolare di questa persona che ha otto mesi che sta là dentro, dice la messa tutte le mattine con molta devozione, passa ore con la Bibbia in mano, è sempre pronto ad ascoltare gli altri detenuti e ha sedato scontri che ci sono stati all'interno perché ha autorevolezza di sacerdote, speriamo che presto è bene il processo. Poi quando sarà arrivato al terzo grado di giudizio, il quarto è quello del Padre Eterno. Stiamo attenti tutti perché quello c'è, invece non mi risulta di essere tra i testimoni, a me non me l'ha comunicato nessuno, mentre tutti avete scritto che ero chiamato a testimoni. Mi è arrivata alcuna citazione.